Una media giornaliera di 183 presenze e 66.735 passi serviti è il bilancio 2023 dell'attività della Mensa di Solidarietà di Casa Nazareth, il servizio che offre un passo caldo a pranzo e a cena alle persone in difficoltà della città di Como. Facendo un raffronto con il 2022, durante il quale i passi serviti sono stati 57.400, si evidenzia un significativo incremento del 16,2%, segno che la Mensa di Solidarietà di Via Doluigi Guanella, con la quale collaborano oltre 250 volontari, è diventata un punto di riferimento fondamentale in città. Sono almeno 25 le persone che ogni giorno a turno pressano la loro opera per accogliere e servire gli ospiti. Nel 2023 sono stati 541 quintali di cibo ricevuti in dono per la Mensa. Rispetto all'anno precedente che ha registrato una fornitura di 700 quintali, il calo è stato del 22,7%. Questo è determinato da una diversa politica di distribuzione dei generi alimentari da parte della grande distribuzione, spiega Gabriele Bianchi, operatore della fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Ollus, responsabile della struttura. Una politica virtuosa che genera meno spreco ma che ci induce a trovare altri partner per mantenere alta la fornitura di generi alimentari per la buona gestione della Mensa. Nel 2023 i costi del servizio sono stati pari a 267.112 euro, numeri che evidenziano il grande impegno economico che comporta la gestione della Mensa e la generosità di tante persone in realtà che hanno condiviso le iniziative di raccolta fondi. Tra queste la campagna dona un pasto caldo che permette con 4 euro di sostenere i costi per la fornitura di un pasto a uno degli ospiti della Mensa. Per maggiori informazioni consultare il sito casanazaret.it.